Il mio nome è Elio Mondello Anzà e come puoi vedere su Facebook questo è il mio profilo qua puoi vedere la mia foto e anche quella di mia moglie infatti come noti sul mio profilo su Facebook io sono sposato con questa bellissima ragazza Elio Mondello Vansdad, io sono anche il cofondatore e creatore di Mondo Soul ti spiegherò in un momento che cos'è Mondo Soul e ho studiato a Milano in Italia e adesso vivo in Norvegia vengo da Biategrasso in provincia di Milano e proprio a Milano si svolge uno degli eventi che ha cambiato la mia vita e ti spiego anche questo in un momento ok allora molto velocemente se stai guardando questo video e perché appunto ti interessa questo cambiamento che io ho avuto nella mia vita di recente e probabilmente perché appunto ti ho mandato questo link o sei arrivato attraverso una ricerca su internet comunque brevissimamente ti spiegherò in questo video perché allora tu riuscirai a cambiare la tua vita come l'ho cambiata io in un evento di tre giorni che io ho fatto a Oslo mentre tu puoi fare a Milano in Italia e in questo evento in particolare io appunto sono riuscito veramente ad aprirmi per la prima volta e a vincere le mie paure ok quindi ti faccio vedere brevemente che cos'è questo evento che trovi sempre su Facebook ok Facebook voglio dire tutti ormai lo usano quindi questo è il Millionaire Mind Intensive Italy e questo evento in pratica si svolgerà dal 24 maggio al 26 maggio dalle 9 del mattino alle 19 di sera ora mi dirai caspita quante ore sì è vero il successo non si costruisce in pochi minuti in realtà si costruisce in tantissimi anni e probabilmente neanche diciamo la maggior parte delle persone riescono comunque ecco questo evento per me ha voluto dire tantissimo quindi io ora ti dico ho scritto questo articolo su uno dei nostri siti internet il nostro blog anzi in particolare come io e mia moglie abbiamo cambiato la nostra vita e ti suggerisco ovviamente di andare a leggerlo perché ecco io in questo articolo ho provato a condividere quelle che sono state le mie emozioni quelli che sono stati i miei successi durante questo seminario non è molto lungo perché tu non ci metterai tanto e il motivo per cui io sto spendendo questo tempo sto spendendo me stesso in questa attività è perché ci credo tantissimo credo che effettivamente questa cosa abbia cambiato la mia vita e possa cambiare la vita di tante altre persone così come l'ha già cambiata a milioni di persone sì infatti perché questo evento il Millionaire Mind Intensive a Milano ti faccio vedere il loro sito ufficiale in pratica è un evento costruito su un personaggio questo T.R. Vekir che ha scritto un libro The Secrets of the Millionaire Mind i segreti di una mente milionaria e questo libro oltre ad essere il numero uno dei libri più venduti da New York Times è anche un libro che ha venduto più di un milione di copie un milione e mezzo di copie quindi questo evento che è stato fatto in tutto il mondo e che è stato fatto credo già due volte in Italia è un evento che ha cambiato letteralmente milioni di persone milioni di vite quindi io ti consiglio veramente di andare in questo evento che si svolgerà a Milano vedi qua ci sono alcuni dettagli poi comunque se ti scrivi su il mio sito e lasci il tuo nome e la tua email ti darò tutte le informazioni così come anche la possibilità di vincere sei biglietti sei biglietti di business class che valgono 150 euro l'uno e soprattutto ecco ti darò a disposizione i nostri talenti le nostre conoscenze per quanto riguarda l'internet marketing e i social media che possono essere utilizzati per te e per la tua azienda e poi anche la possibilità di conoscere me, mia moglie e altre persone fantastiche durante questo evento sì infatti perché noi saremmo lì e aiuteremo te e tanti altri a cambiare la vita come abbiamo cambiato la nostra ti ringrazio per aver guardato questo video grazie di cuore